3 buoni motivi per votare Raffaele Rinaldi al Consiglio Comunale l'8 e 9 giugno. 1. Perché Raffaele è un papà amorevole e adesso un ottimo esempio per i suoi figli. 2. Perché Raffaele è un ingegnere molto legato al mondo agricolo, preparato, capace, che vive la sua giornata lavorativa con passione. 3. Perché è un amico speciale, corretto, su cui poter contare sempre in ogni momento. Mi raccomando, in Consiglio Comunale sono gente commettente e per bene. E Raffaele Rinaldi lo è.